Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di visilia del ministro Massimiliano Allegri. Iniziamo con la prima domanda, grazie. Buongiorno a tutti, domani la partita è una partita molto complicata perché il Cagliari viene da una brutta sconfitta subita ad Udine, giocare a Cagliari è sempre difficile perché comunque loro sono una squadra fisica, aziano molto la palla, sarà una partita, secondo me viene fuori una brutta partita domani tecnicamente, però dobbiamo essere consci di questo e soprattutto sapere che per domani, domani per noi contano molto i tre punti perché abbiamo la Roma a cinque punti, mancano tante partite, quindi non bisogna perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, entrare nei primi quattro. Buongiorno mister Giovanni Albanese Sport Italia, le chiedo se per il tipo di partita di domani è meglio un centrocampo a tre o se intende invece andare avanti con la soluzione tattica che abbiamo visto con l'Inter, quindi 4-2-3-1, grazie. Oggi faremo l'ultimo allenamento e vedremo un po' le situazioni, le condizioni, è normale che domani mancheranno Locatelli, purtroppo l'infortunio terrà fuori per quattro settimane, poi ci sono gli squalificati Morata e De Sciglio, quindi non siamo neanche tantissimi, questo però non ci deve essere neanche una scusante perché domani comunque noi dobbiamo fare una grande partita e soprattutto portare a casa il risultato e quindi oggi valuterò se giocare con un centrocampo a due o se giocare con un centrocampo a tre. Buongiorno mister, ma come dite signora mia, Calcio News, non le chiedo cose tattiche, le chiedo cose di squadra, reazione psicologica dopo la sconfitta, perché sono sconfitte che lasciano il segno, sconfitte che ti fanno arrabbiare paurosamente, quindi ti fanno reagire. Che tipo di reazione hanno avuto i ragazzi, se lei ha avuto modo di parlare e qual è la loro reazione che le si aspetta? Grazie. Nel calcio le reazioni sono, cioè è solamente una, quella di fare delle grandi partite, adattarsi alla partita, capire la partita, perché rispetto a quella che è stata la partita con l'Inter, domani sarà una partita completamente diversa, ma molto diversa, perché io partita a Cagliari dove vinci facile, io non l'ho mai vista, non l'ho mai giocata, sia con il Milan che con la Juventus e quindi per questo domani bisogna prepararsi a un certo tipo di partita, conoscendo l'avversario, conoscendo l'ambiente e conoscendo il momento dell'avversario. Il resto, andare a tirare fuori le cose che non hanno senso nel calcio bisogna essere pratici, bisogna solamente cercare di vincere le partite e bisogna avere delle reazioni. La squadra, la squadra si è allenata bene, stiamo bene anche fisicamente, devo dire la verità e quindi su questo ci sono tutte le condizioni migliori per poter fare una bella partita domani, ma dipende subito dall'aspetto, soprattutto dall'aspetto mentale con cui dobbiamo affrontare la partita. Buongiorno, Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport, io volevo sapere come sta Bonucci, se può essere pronto per giocare dal primo minuto. Bonucci sta meglio, sta molto meglio, valuterò se farlo giocare all'inizio o se portarlo in panchina. Buongiorno, mister Gallo Mediapason. Mi sembra di capire che quello su cui lavora è l'aspetto mentale di una squadra comunque molto giovane, ora che forse è venuta un po' meno la possibilità di sognare davanti e anche gli avversari che vi attendono sono, da un certo punto di vista, un po' meno stimolanti, non ci sono sconti diretti fino alla fine. E' questo l'aspetto da tenere maggiormente sotto controllo? Cioè l'approccio adesso che dietro c'è comunque buon vantaggio e davanti è venuta un po' meno la possibilità di sognare, anche se lei ci ha sempre detto che non era il caso. Dopo la partita, per noi il nostro obiettivo era quello di entrare nelle prime quattro. Momentaneamente ci siamo, ma abbiamo la Roma a cinque punti e comunque con i tre punti fai presto ad essere risucchiato e poi dopo la condizione psicologica cambia. Ecco perché domani dobbiamo fare una bella partita, una grande partita e dare una bella risposta. Poi è vero che con la Roma abbiamo il vantaggio degli scontri diretti e quindi questo è un altro bel vantaggio. Però non possiamo ridurci a fare, a rischiare che la Roma ci avvicini. Ecco perché domani, indipendentemente dalla partita come verrà fuori, se riusciamo a far bene tecnicamente, però bisogna calarsi nella realtà della partita di domani. Perché domani il risultato è troppo importante. Buongiorno mister, Francesco Pellino, Agenziaria. Mister, sia con Villareal che con l'Inter è mancata un po' di precisione negli ultimi metri. Se è stato fatto un lavoro specifico in questa settimana? Io credo che la squadra fino a questo momento si sia ben comportata. È normale che noi siamo mancati nelle tre migliori partite paradossalmente che abbiamo giocato quest'anno, che sono stati con l'Atalanta in casa, con il Villareal in casa e con l'Inter in casa. Abbiamo subito poco, però non abbiamo sfruttato al meglio quelle che sono state le occasioni che la squadra ha creato e quindi abbiamo perso. È normale, su questo bisogna lavorare, bisogna migliorare, bisogna avere più serenità in quelle situazioni, perché altrimenti direi queste tre partite le abbiamo lasciate per strada. Io posso capire una, posso capire due, ma tre incominciano a diventare un numero importante. Ecco perché bisogna migliorare, ma questo passa attraverso la serenità e la crescita di tutti. Buongiorno, Giovanni Guardalasca e Sport. Parlava di queste partite, che sono state probabilmente quelle giocate meglio. Io vorrei andare nello specifico su Rabiot, che probabilmente contro l'Inter ha giocato la sua miglior partita di quest'anno, in un centrocampo in quel modo. Lui stesso spesso dice che si trova meglio lì. È solo una coincidenza che abbia giocato a questo livello in un centrocampo a due? Quindi bisogna andare avanti su questa strada perché magari il giocatore è più stimolato? Non so. Allora, Rabiot è normale che a due si trova meglio perché comunque è un giocatore che ha gamba, che copre molto campo, che ha forza, ha un motore diverso dagli altri. Poi in questo momento qui sta meglio fisicamente. L'altro giorno con l'Inter ha fatto una partita anche tecnicamente buona. Ha giocato un po' più di palla in verticale. Su quell'aspetto lì io credo che lui migliorerà tanto. Poi dopo ci sono delle partite in cui per necessità dobbiamo giocare anche con un centrocampo a tre. Magari lui giocherà meno bene o un altro giocherà meglio. L'importante è comunque che la squadra ottenga il risultato perché comunque in questo momento abbiamo tanti giocatori fuori e quindi bisogna fare di necessità virtù. Buongiorno Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Mi riaggancio la domanda del collega sul lavoro in attacco. Può essere la partita giusta per Bernardeschi? Grazie. Può essere la partita giusta per Bernardeschi, per Ken, per Vlaovic. Deve essere la partita giusta per tutti. Perché in questo momento non possiamo assolutamente scherzare perché mancano sette partite. Dobbiamo essere più precisi quando siamo nella fase offensiva perché momentaneamente ci mancano dei gol e sono quelli che fanno la differenza tra la nostra posizione in classifica e quelle davanti. Buongiorno Fabrizio Ferrero Mediaset. Volevo chiederle se dopo che ha visto le partite di Coppa, in particolare Villareal che ha battuto il Bayern Monaco, è cambiato qualcosa rispetto a quello che è successo a voi? In qualche maniera qualcuno ha sottovalutato Villareal? Ha qualcosa da aggiungere? Non tanto è inutile a parlare cosa è successo. Noi con Villareal abbiamo fatto due ottime partite, anche quella dell'andata che è stata molto criticata. Abbiamo avuto tante occasioni anche all'andata, poi abbiamo sballato l'ultimo passaggio e abbiamo subito poco anche all'andata. Poi l'altra sera il Villareal ha fatto una grande partita, poi dopo l'altra sera nel battere il Bayern è normale che l'1-0 è un risultato che ti tiene aperto il passaggio. Le prestazioni che sono state fatte con il Villareal sono state due ottime prestazioni, le nostre, che però non sono bastate perché siamo stati eliminati, perché dopo alla fine quello che conta è il risultato. Il passaggio del turno in Coppa è il risultato finale nel campionato, attraverso delle ottime prestazioni, delle buone e ottime prestazioni. A volte quando non fa delle ottime prestazioni, delle buone prestazioni, deve portare lo stesso a casa del risultato. E il Villareal ha una scuola scomoda. Buongiorno, Romeo Agressi, gol.com. Le chiedo, mister, se è vero che ci siano delle chance di vedere Gian Mccaini di rientro nel finale di stagione. Grazie. Momentaneamente è ancora che cammina, è ancora in ritardo. Speriamo nel giro di un mese, i primi di maggio, magari che possa rientrare e essere a disposizione, perché comunque mancherebbero ancora 4 o 5 partite. Buongiorno, mister. Filippo Cornacchi, Tutto Sport. Nella sua prima esperienza alla Juve ha vinto tantissimo e ricevuto tantissime critiche. Domenica ha ricevuto tanti complimenti, ma non ha vinto. Cosa ci ha pensato in questi giorni o anche pensando al futuro? Ho analizzato quello che ho visto della partita. Penso sempre, credo, in maniera lucida, ogni tanto meno lucida, a quello che sta facendo la squadra in questo anno. Io credo che ogni squadra arrivi nella posizione che merita. Noi in questo momento siamo quarti e meritiamo di essere quarti. Poi che dobbiamo lavorare per migliorare, questo è sicuramente fuori dubbio, lo facciamo tutti i giorni. Io credo che la squadra da ora fino alla fine della stagione può solo che migliorare perché abbiamo una partita sola il mercoledì con la Fiorentina, speriamo di averne un'altra l'11 maggio, che sarebbe la finale di Coppa Italia e poi abbiamo una partita della settimana. È normale in questo lasso di tempo, possiamo lavorare anche in modo un po' diverso per cercare di migliorare le situazioni di gioco, lavorare più sui singoli giocatori. Però il campionato, l'ho sempre detto, è fatto di 38 partite. Ci sono delle partite in cui vinci e non meriti di vincere, delle partite in cui pareggi e magari meritavi di vincere e delle partite in cui perdi e magari meritavi di vincere. Ma il meritare di vincere è una roba astratta. Quindi io credo che è la cosa reale, ecco perché non bisogna stare nella realtà e non nel ma se, ma se, no, ma se niente. Perché poi ci sono, quando c'è il rimpianto, sì, il rimpianto che però poi c'è delle partite in cui magari con la Roma è ritagliato fuori anche dal quarto posto a 10 minuti dalla fine. Noi bisogna vedere comunque quello che è l'andamento della squadra, dove dobbiamo migliorare, dove dobbiamo migliorare per l'anno prossimo, non facendosi sfuggire quelli che sono gli obiettivi, che in questo momento è quello di giocare la Champions il prossimo anno. Ciao, Gamba Repubblica. Volevo chiederti se questo lavoro che dice che farai da qui alla fine della stagione può anche essere utile o orientato in qualche modo in vista della prossima, quindi magari anche a livello di valutazione, di soluzione, eccetera. E se Di Bala, che è un giocatore chiaramente ufficialmente fuori dal progetto, ha senso continuare a insistere su di lui anche in queste ultime giornate o è meglio invece privilegiare uno che è dentro la Juve lo sarà anche in futuro. Grazie. Siamo, cioè questo mese e mezzo che manca da qui alla fine della stagione, che serve per lavorare, abbiamo tempo per lavorare, va bene, soprattutto durante la settimana, però nello stesso tempo abbiamo degli obiettivi a raggiungere. Io e tutti i giocatori che ho a disposizione della Rosa, sono tutti, devono essere tutti in condizione per dare il loro contributo, per far sì che la Juventus a fine anno sia nelle prime quattro. e magari giocare in una finale di Coppa Italia. Indipendentemente che uno rimanga, un altro vada via, abbiamo cinque giocatori, sei giocatori a scadenza di contratto, quindi siamo tutti in ballo. In questo momento qui non bisogna pensare né al mercato né ad altre cose. In questo momento bisogna essere concentrati su quello che dobbiamo fare e portare a casa i risultati, che è la miglior cosa, perché poi dopo alla fine i complimenti non servono a niente. Perché poi a me questa roba di complimenti mi dà un po' fastidio. Perché altrimenti diventiamo la squadra che sia contenta dei complimenti, che trova un alibi e ne trova un altro. Qui alibi non ci deve essere. Complimenti non ci deve essere, ci deve essere solo delle vittorie. Salve, ho detto in una stampa. Proprio delle vittorie, questo è un evento che ha faticato molto a segnare, non a caso anche il non attacco. C'è un dato curioso, c'è una squadra che crossa di meno, 300 cross credo sono stati contati, poche altre hanno fatto meglio, scusi peggio. Volevo chiederle, è questo uno dei motivi per cui l'Iventus fa fatica a segnare? A maggior ragione avendo anche giocatori, comunque nel gioco aero sono anche abbastanza bravi, penso a Blauvic. Questo è uno dei problemi e perché l'Iventus fa fatica così a segnare? Grazie. Lo sai che se noi ci mettiamo qui a dire, allora se mancano, se guardiamo l'Uni, mancano 30 cross, se mancano 40 cross, se mancano 50 cross, se mancano... Io credo che l'Iventus, soprattutto negli ultimi tre mesi, quattro mesi abbiamo creato molto. Poi siamo stati poco lucidi e poco precisi nel far gol. Su questo bisogna essere più efficaci da qui alla fine del campionato. Ciao Antonio Paolino, Radio Bianconera. Ti posso chiedere se prima dell'Inter avevi anche con una minima percentuale la possibilità di riaprire i giochi scudetto anche per la Juventus e questa seconda pagina di questo finale ti porta a programmare di fare almeno quanti punti? Ne servono 16, visto che la Roma ne ha 5 in meno. Assolutamente sì. Io credo che... è normale che se... tanto con i secondi mazzi vado da nessuna parte. Battendo l'Inter è normale che avevi una piccola speranzella però dove vince tutte le partite che è praticamente impossibile, difficile. Quindi dobbiamo svoltare. Svoltare qual è? Quella di concentrarsi su quello che è realmente il nostro obiettivo, entrare nelle prime quattro e cercare di fare i più punti possibili. Però facciamo una cosa alla volta. Domani abbiamo una partita, ripeto, difficile e complicata perché altrimenti nel giro di una settimana deve essere a più otto, va bene, rischiare di lottare per lo scudetto a trovarsi la Roma a due punti. E su questo bisogna essere lucidi. Ecco perché domani è una partita di quelle toste giuste che va giocata in un certo modo. L'ultima. Buongiorno mister Filippo, buon signore Corrierello Sport. Proprio rieganciandomi a questo discorso di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Visto che quelle davanti hanno viaggiato a un buon ritmo ma comunque qualcosa hanno concesso. È una forzatura dire che è un campionato delle occasioni perse, dei rimpianti per voi? Oppure è giusto così come è andata? Io rimpianti nella vita non se ne devo avere. Che rimpianti bisogna avere? Quando giochi in un campionato bisogna essere realisti. Siamo quarti e ci meritiamo di stare quarti. Quando eravamo decimi ci meritavamo di stare decimi. Ora siamo quarti e ci meritiamo di stare quarti. Abbiamo avuto un'occasione importante contro l'Inte, non l'abbiamo sfruttata facendo una buona partita e questa è la realtà. Il resto per me sono tutta aria fritta. Di cosa si parla? Di niente. Grazie. Buona giornata.